Intaglia gli specchi, intaglia il trasto, intaglia il bianco. Questo cos'è? Un pollice? Questo no, sono i piedi veneti. La Repubblica di Venezia ha una misura. E la forcola? Mi raccontavi la forcola? Sì, la forcola è un pezzo di noce unico. Mi dicevi l'altezza del ginocchio, no? Sì, deve arrivare all'altezza del ginocchio, del ferro. Il ferro di prua, questo qui. Ecco, e ti dicevo. Grazie a tutti.